amici visual ascoltatori sportivi di l'ecofm quest'oggi abbiamo un approfondimento con un nuotatore un nuotatore molto conosciuto su territorio e non un nuotatore di cui si è parlato anche oltreoceano andrea oriana qui con noi in studio buongiorno andrea buongiorno a te noi l'avevamo intervistato qua in studio l'ultima volta che non aveva ancora battuto un record il record di permanenza nel lago titicaca un'impresa di fatto che sei riuscito a raggiungere insomma battendo il precedente primato nel tentativo di una traversata ai limiti del possibile come è andata ma era una traversata dal peru alla bolivia e di circa 40 km la particolarità era quella di essere ad un'altitudine di circa 4 mila metri con una temperatura dell'acqua di 12 gradi senza muta è andata bene non benissimo perché ho dovuto incontrare problemi logistici problemi fisici però alla fine come hai detto tu sono molto soddisfatto dell'esperienza che comunque mi ha lasciato delle delle cose belle che mi porterò sempre dietro e il fatto di aver fatto comunque questo record che è ancora mio mi inorgoglisce ecco poi il ritorno in italia e adesso ti vediamo in un altro insomma un altro corpo se vogliamo 20 kg in meno perché adesso si passa dalle acque fredde alle acque calde ritorno in italia come come è andato poi cosa è successo negli scorsi mesi e diciamo che l'immediato ritorno un giorno subito un giorno dopo dell'arrivo in italia non sono stato bene ho avuto questa questa forma di batterio la listeria che mi ha che mi ha debilitato già quando ero presa nel titicaca sicuramente e fortunatamente se dico sono stato male qui in italia ho rischiato anche la vita perché sono stato comunque in ospedale un mese e mezzo mi ha provocato una meningite e diciamo che è stata una cosa che mi ha segnato parecchio mi ha costretto a rivedere quelli che potevano essere i miei programmi di abbandonare comunque le acque fredde puntando acque decisamente più calde anche perché diciamo la vita è una è inutile rischiare per fare l'eroe finché si tratta di coltivare una passione va bene ma non ha senso spingersi oltre certo certo adesso chiaramente ti vediamo in ottima forma e sei pronto ad altre imprese siamo qui anche per parlare di questo perché è oriana che da qualche mese è diventato anche istruttore alla canottieri di lecco giusto sì allenatore ai canottieri collaboro con l'altro allenatore che si chiama riccardo crippa e ringrazio presidente cariboni e carla silva in qualità di direttore sportivo di avermi dato questa possibilità e quindi sono tornato a casa diciamo è certo dove tutto era cominciato di conseguenza allenatore alla canottieri ma ancora ancora pensi a nuove imprese questa volta nelle acque calde ma comunque stiamo parlando di lunghezze che io non mi immagino neanche che cosa stai preparando ma diciamo che tendenzialmente a me piace nuotare io mi trovo bene in acqua e forse per assurdo sto meglio in acqua che fuori quindi l'idea di riprendere a nuotare l'idea anche di cambiare forma al fisico è bello perché comunque tu io ho sempre dimostrato grande rispetto verso il mio fisico e quindi lui si adatta perfettamente a quelle che sono le mie esigenze riesco comunque a prendere 20 kg come riesco a diminuirli senza grosse difficoltà e quindi questo mi aiuta molto e adesso appunto sono tornato ad avere quello che era il fisico di quando nuotavo in piscina proprio perché nuotando in acqua calde per lunghe distanze è necessario essere leggeri prima serviva il grasso che mi isolasse dal freddo ora serve comunque la leggerezza per poter stare in acqua tante ore sei grosso no dal peso forma delle olimpiadi per intenderci di quando nuotavi si calcola che le olimpiadi ero 73 kg adesso sono te 74 75 quindi siamo siamo su quei pesi di molto molto simili e si parla di una traversata diciamo si può dire passi parte la toscana e serio in corsica sì diciamo che il bello di queste imprese non sono proprio per la gloria ma sono per cercare di sensibilizzare anche questa unione di stati adesso siamo comunque in tempi di come dire di non bellissimi ma a me piace appunto questa idea di fare le mie traversate per un'unione ipotetica fra tutti gli stati quindi ho cominciato a fare dall'Inghilterra alla Francia con la manica poi comunque ero quasi riuscito a fare dal Perù alla Bolivia adesso l'idea è quella di andare dall'Italia alla Francia la Corsica non sappiamo ancora dove perché poi dipenderà molto da permessi e da logistica però l'idea è quella di arrivare in Corsica per un 24 ore di nuoto che dovrebbe essere di 80 chilometri circa ma è una distanza incredibile 80 km 24 ore in acqua non sono le acque della manica non sono neanche le acque del TTK anche la pressione penso che sia diversa proprio dell'acqua si l'acqua salata per un certo verso come ho fatto alla manica per nuotare per lunghe distanze e presuppone il fatto che tu sia molto preparato come creme tutto perché comunque provoca tante abrasioni non ci sono le correnti che ci sono la manica però qui c'è una distanza che è il doppio della manica la manica 40 km qui sono 80 anche se sono fiducioso perché sto facendo degli allenamenti veramente tosti del tipo ma anche dei test che faccio mensilmente di quasi 12 13 ore in piscina e la continuative se quasi sai che la piscina è molto più alienante delle acque libere per cui fatto di continuare ad andare avanti indietro per 25 metri a livello di testa è alienante però io mi trovo bene riesco comunque isolarmi da tutto e poi il fatto di aver nuotato qui due anni fa nel lago 19 ore nella traversata che feci in serata da da colico passando per bellaggio e menaggio ricordiamo e quello mi lascia comunque sperare anche perché sono molto più in forma sto nuotando molto di più per cui sono fiducioso di poter stare 24 ore in anno cosa ti passa per la testa quando nuoti per 19 per 12 ore in piscina giorno dopo giorno incredibile perché parte tutto da lì sì diciamo che mi isolo da tutto però poi vengono fuori pensieri senza che che li vada a cercare io e il bello è proprio perché riesco ad avere questo questo rapporto speciale con l'acqua quindi non è un rapporto comunque che sia come quando si fanno le gare in piscina è un rapporto in cui l'acqua viene comunque in un certo modo aggredita perché poi comunque devi cercare di stare in acqua andare più veloce degli altri qui comunque è un rapporto quasi un fondersi tutt'uno con l'acqua ed è bellissimo che mi lascia tantissime emozioni è come un viaggio col col mio allenatore Matteo Lugo parliamo un nuovo allenatore vero? sì un nuovo allenatore e parliamo spesso di queste esperienze che faccio in piscina e a me piace pensare che siano dei viaggi lunghi che mi danno sempre qualcosa quindi il bello che magari quando mi alleno vedo persone alle 8 del mattino ne vedo altre alle 2 del pomeriggio ne vedo altre alle 8 di sera mi tengono in un certo modo compagnia anche se non nuotano con me però è un modo come un altro per per cercare di trovare dei diversivi che in piscina come ho già detto sarebbe veramente tosto essere un continuo avanti indietro è un nuovo staff? sì più che staff guarda ti dico la verità mi sono ho alleggerito un po' ho cambiato con l'esperienza con il team di Animo Saudendi che è sempre la mia società però era un bel team che aveva come di appassionati che mi seguivano per cui io li ringrazio per quello che mi hanno dato mi hanno arricchito tantissimo mi hanno aiutato in questi due anni adesso sto cercando proprio di avere delle persone proprio molto specifiche Matteo Lugo è una persona un grande allenatore di profilo e poi spero come dire di avere anche l'apporto di Massimo Giuliani che è stato come dire un'icona del nuoto di fondo allenatore con cui ha portato l'Italia in vetta al mondo del nuoto di fondo per cui ha vinto numerosi titoli mondiali titoli europei da allenatore della nazionale e senza dimenticare Pippo Nicosia che è il presidente della squadra per cui nuoto la nuoto Milazzo che mi aiuta sempre nell'organizzazione delle mie traversate anzi ai primi di giugno sarò proprio a Milazzo per riprovare la traversata che ho tentato a ottobre dell'anno scorso che poi a circa metà da Milazzo a Pantelleria ho dovuto interrompere perché il mare si è alzato c'erano onde di quasi tre metri e l'ho dovuta rimandare quello sarà un test di passaggio che faremo a giugno Punto di arrivo e punto di partenza? Di questo test? Da Milazzo a Pantelleria Ok, è durata in termini di tempo? Sì, 46 chilometri, 45, 46, quindi circa poco più della metà ed è un bel test perché mi dirà già comunque come sarà la preparazione a giugno mentre invece l'altra speriamo di farla verso fine agosto quando l'acqua sarà proprio calda perché comunque adesso ho perso il superpotere del freddo così magro faccio fatica a stare a freddo Ed è giusto, quanto sei rimasto nel Titicaca? Di tempo? Ma 5 ore e mezza Che rispetto alle 12 di cui parlavamo prima potrebbero sembrare meno ma sono altre condizioni Sì, 12 gradi a 4000 metri è come nuotare a 9-10 gradi qua perché poi comunque la quota, l'altura sposta anche quelle che sono tutti i valori per cui è come stare dentro 5 ore e mezza nel lago a novembre, dicembre Roba da pazzi, no, roba da Andrea Oriana che ringraziamo per essere stato con noi, in bocca al lupo per queste sfide Beh, viva il lupo e grazie a voi della gentilezza che mostrate sempre per me e saluto tutte le persone che mi seguono Continueremo a seguire Andrea Oriana e eviteremo aggiornati sugli sviluppi di queste imprese che a noi piace tanto raccontare Buona serata Buona serata